buongiorno da obiettivo news oggi 14 febbraio vengono celebrate le sacre ceneri ed è san valentino la festa degli innamorati valentino è considerato il santo degli innamorati e diverse sono le storie che lo riconducono a questo ruolo e tutte hanno come filo comune la ria pacificazione fra due innamorati che avevano litigato a cui valentino contribuì chi dice con una rosa che dice facendo volare coppie di piccioni vescovo di terni san valentino è considerato anche il patrono dei matrimoni oggi è anche la giornata nazionale e internazionale dei cioccolatini e delle praline tra i nati oggi abbiamo daria bignardi 1961 e valerio massaladea 1972 tra le scomparsi ricordiamo marco pantani 2004 e michele ferrero il papà della rotella 2015